Ciao, complimenti, come ti chiami? Ah sì, noi siamo qui questa sera per pubblicizzare, ha dei bellissimi occhi signorina, per pubblicizzare un evento il 12 di dicembre, ok? Ristorante, ristorante in un ristorante famosissimo in Francavilla al mare, ok? Quindi le invitiamo perché ci sarà da mangiare dall'A alla Z, ristorante da Silvano, signorina. Ci saranno due ospiti famosissimi, sa chi? No? Io, io presto al mare, ci sarò io, io e Raffaele l'amico mio, sì, saremo noi. Di poche parole, signorina, quindi io l'aspetto, va bene? Arrivederci, complimenti.